Don Innocente Chiodi, prevosto di Gandino da 12 anni, cambierà comunità. L'annuncio nel fine settimana, durante le messe, nelle parrocchie dell'unità pastorale di Gandino, Barzizza e Cirano. Quindi un cambiamento in arrivo. Sì, alla messa delle 18, in Basilica, sabato scorso, era il 19 marzo, San Giuseppe, festa del papà, ho comunicato che da settembre sarei diventato di nuovo papà. Un momento di silenzio generalizzato e poi ho comunicato certamente che sarei stato papà di una nuova comunità bariano. È un po' come tornare dalle mie parti, un po' più giù per la verità. Io sono di Verdello, sono diventato prete nell'87, sono stato a Osio Sopra per 5 anni, con una puntatina, il primo anno anche a Mariano di Dalmine. In contemporanea era la prima esperienza di un curato con due parrocchie e che la diocesi di Bergamo aveva avviato. Sei anni a Cologno, quindi ancora nella bassa, come curato, con 14 ore di scuola alla settimana, 10.000 abitanti. Quindi una realtà veramente impegnativa, ma bella, esaltante. Poi un po' più giù a Pagazzano, 12 anni come arciprete e poi 12 anni ora a Gandino. Penso di aver toccato l'est, l'ovest, il sud e il nord, anche se in piccola parte. E ora si ritorna un po' più a sud di quanto fosse stato il sud precedentemente. Che cosa ha trovato in questi 12 anni a Gandino? Innanzitutto è stato un inizio graduale, perché sì, sono entrato il 25 settembre di 12 anni fa, del 2010. C'era stata un'accoglienza strepitosa, penso insuperabile, che non penso di poter mai trovare da altre parti, ma solo perché Gandino fa onore al suo nome, Pum Pum, se lo sapete tutti. E veramente è andato tantissimo. Ma è stata graduale l'inserimento in questa parrocchia, perché è stata una bella condivisione condivisione con il mio predecessore Don Emilio, il quale ha desiderato che fossi presente anche nei mesi precedenti a diversi incontri con la realtà abbastanza complessa dal punto di vista pastorale che Gandino riservava. E anche la conoscenza quindi di un'estate passata insieme con i ragazzi, gli adolescenti di Pagazzano e di Gandino e quindi anche la conoscenza dello stesso curato del tempo. E mi sono trovato di fronte a una ricchezza invidiabile di beni, di beni da conservare, da custodire, da valorizzare, cosa che dal punto di vista degli interventi abbiamo fatto con le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma anche di fronte a una storia soprattutto di tradizione molto radicata. Ho trovato la collaborazione dei sacerdoti, non avrò il curato di oratorio in Bariano certamente. Ho trovato successivamente anche, oltre a quella dell'oratorio, un'altra validissima collaborazione. E poi altri due sacerdoti che sono venuti ad abitare nel loro paese di origine. Quindi lascio un po' un presbiterio che ha dato motivi di confronti quotidiani, belli e anche di pertenersi in qualche modo giovani e aggiornati. Ho trovato dei gruppi di volontariato molto numerosi. Parlo di Gandino, ma quando nel 2016 il parroco di Barzizza, stavo dicendo Bariano, di Barzizza e di Cirano hanno lasciato il loro compito per altre parrocchie, anche in queste comunità ho trovato una vita molto così radicata di amore per la propria comunità. Gruppi, oggi ne possiamo contare da un recente questionario di volontariato nella comunità di Gandino. Sono 40, sono a Cirano 19, sono 24 a Barzizza, ovviamente considerando le diverse impegni che possono esserci a carattere di custodia delle chiese, dei beni, ma anche di iniziative. Ma c'è di bello che possiamo aggiungere anche una decina di gruppi, per così dire, trasversali. Infatti il percorso dell'unità pastorale è incominciato nel 2016 con qualche tentativo precedente in collaborazione con gli altri parroci e nel 2018 è stata istituzionalizzata questa unità pastorale. Ed è bello vedere che si sta un po' respirando con polmoni un po' più ampi e con uno sguardo che va al di là da quello rivolto solo ed esclusivamente al proprio campanile. A favorire questo sono state anche iniziative che all'inizio hanno fatto un po' soffrire, cambiamenti di orari, le messe eccetera, ma hanno favorito tra di loro una presenza mista diciamo di frequentanti le liturgie a Cirano, qualcuno di Gandino, a Barzizza anche altrettanto. Ma anche questa collaborazione è venuta nella collaborazione e nella gestione delle feste e anche così nella disponibilità di coristi che partecipavano agli eventi più significativi di una comunità. e questo si è così man mano, è aumentato un po' nel tempo. Ho trovato certamente la ricchezza, dicevo, la basilica, i musei, ma anche queste bellezze naturali che sono facilmente raggiungibili. Con 15 minuti di strada in moto si arriva facilmente così in una zona da cui partire per dei sentieri senza difficoltà oppure si può partire benissimo a piedi anche da qua. Mi mancherà un po' questo a Bariano, ma non è comunque lontana, la montagna per qualche uscita nei tempi liberi, che spero di poter in qualche modo incontrare. Ho trovato la partecipazione e la collaborazione da parte delle persone ai diversi interventi che sono stati indispensabili e ho trovato anche un oratorio frequentato. Ok, le nostre realtà, soprattutto dopo il Covid, sono state un po' segnate da assenze, obbligatorie o meno. Ma se penso al gruppo degli adolescenti molto vivace, alla catechesi, molto frequentata, alle confessioni di 60 adolescenti, credo che questo sia un po' un fiore all'occhiello che si può trovare non dappertutto. C'è qualche ricordo particolare, qualche bel ricordo che pensa continuerà a legarla, soprattutto a Gandino? A volte questo lo chiedo ai fidanzati, che cosa ricordate delle vostre esperienze più belle fatte insieme prima del matrimonio? E la risposta, al di là del fatto che sì, questa gita, questa uscita, è piuttosto vaga perché effettivamente quando si sta bene insieme, si sta bene non solo nello straordinario, ma nell'ordinarietà. E quindi il bello si trova nel momento in cui si vive con passione, con straordinarietà, nel limite del possibile, con i limiti di ciascuno, l'ordinario. Quindi veramente questo. E poi in una comunità in cui gli eventi sono sempre così molteplici e vari, non si fa in tempo a chiudere un triduo che se ne apre un altro, una gita che se ne apre magari un'altra, comunque organizzata da una comunità vicina, una festa, veramente non c'è tempo per fermarsi, per riposare. Quindi vivere bene l'ordinario in modo straordinario, penso che sia questo il ricordo più bello che si porta appresso una persona. E penso di non fare chissà quali altre cose, dove andrò? Lo vedremo, si collaborerà con le persone che incontrerò. Ci sono degli aspetti che riterrei siano utili in cui si possa verificare invece una marcia in più. Lo dico per Gandino, Barzizia e Cirano, penso che ogni parroco alla fine di una sua presenza di 12 anni possa riconoscerlo. Tanti nostri gruppi, associazioni, sono formati da persone che hanno cominciato da giovani e adesso hanno i capelli bianchi e sono i primi che chiedono di poter avere delle nuove leve, dei nuovi giovani accanto a loro. Ce ne sono alcuni che si sono dotati di queste presenze, altri che fanno un po' più fatica e sarebbe un peccato perdere gruppi, associazioni legate per esempio al tema della carità, con difficoltà di poter proseguire in un futuro. Un'altra questione che mi piacerebbe so di lasciare in qualche modo spazio e tempo per chi mi seguirà è quella di poter verificare la possibilità che pur mantenendo fede alle tradizioni antiche si riesca a dare una voce, un linguaggio che possa parlare ai giovani di oggi. Abbiamo veramente tanto e a volte rischiamo di conservarlo come un vestito in un armadio da riprendere in qualche occasione particolare. Abbiamo bisogno di dare corpo, spirito e linguaggio nuovo a questo Gesù che è sempre nuovo, ieri, oggi e sempre. In una comunità ci sono gli aspetti positivi, ci sono anche naturalmente le difficoltà. Quali sono state in particolare le difficoltà di questi 12 anni a Gandino? Una comunità è come una grande famiglia, tre comunità sono come tre grandi famiglie e a volte anche il vicinato non è sempre così sereno. Pur con tutti i begli aspetti che abbiamo ricordato poco fa, penso che ogni parroco riconosca che complice il Covid, ma anche nei tempi precedenti al Covid, abbia notato una disaffezione progressiva alla frequentazione, alle celebrazioni e anche agli aspetti magari ludici a volte nelle stesse comunità. Non dobbiamo fermarci a contare i numeri, anche se sono ancora significativi, chiaramente. Abbiamo sempre a tenere presente che Gesù è partito da alcuni pescatori e con questi 12 e da questi due in qualche modo uno l'ha rinnegato, l'altro l'ha tradito. Noi siamo in condizioni ancora, penso rispetto a Gesù, decisamente migliori, ma non dobbiamo fare i conti sulle nostre forze. Una diminuzione potrei dire anche del senso di appartenenza alla Chiesa. Sì, ci sentiamo cristiani battezzati, ma non è così facile poi definire un po' meglio cosa significhi all'interno di una vita comunitaria a volte. I stessi ragazzi che frequentano i sacramenti mostrano a volte una certa difficoltà alle spalle per una esperienza di famiglia che non è più quella che potevano ricordare i nostri padri. Se in qualche modo il papà e la mamma si sono disaffezionati, pur non avendo motivi per lasciare alle spalle un'esperienza che li ha arricchiti, evidentemente i figli ne possono risentire. Abbiamo molto da fare ancora, ma ovviamente non è un compito lasciato esclusivamente ai preti. Che cosa lascia al suo successore? Lascio tutto quello che ho trovato e forse magari in qualche caso, spero anche arricchito, non tanto grazie alle mie qualità che spero di aver utilizzato, ma alla collaborazione di tanti laici, persone esperte in diversi campi, altri che magari senza avere esperienza però ci hanno messo veramente cuore e anima e hanno permesso la realizzazione e la conservazione e anche in qualche modo un passo in avanti per il percorso di fede. Quindi tutto questo e cerco di poterlo lasciare in modo il più ordinato possibile, nel senso che credo che sia utilissimo in una successione fare in modo che la comunità non risenta di eventuali egoismi legati al prete che lascia rispetto al prete che segue. Sono segni questi di una passione per una comunità che si vuole mettere nelle condizioni migliori per non perdere tempo, per appassionarsi del nuovo pastore e per camminare così con decisione nei percorsi già iniziati o nuovi che si vorranno intraprendere. E quindi lo scorso anno abbiamo realizzato un questionario per contare tutti i gruppi e associazioni perché ciascuno potesse esprimere quale è il desiderio per il proprio gruppo, che cosa ha da offrire, che cosa ha da chiedere e anche così elenchi che permettono a chi potrà succedere di avere una più facile opportunità di rintracciare le persone, i volti e tutti i diversi impegni che in qualche modo hanno già potuto occupare, la loro disponibilità che hanno già dimostrato nel passato.